Ok? Quindi il rimbalzo che io devo sentire è questo. Se io faccio questo, ho ammortizzato l'imbalzo e quindi non ho forza che rimbalzo. Ok? Quindi cosa succede? Che lo ammortizzate è dispersa, nel pugno non succede niente. E cosa succede di sbagliare invece? Che io faccio? La forza va qua e non di. Se invece io riesco a sentire questo rimbalzo, e indirizzarlo con le mani, anziché sui, allora la forza che rimbalza esce nelle braccia. Questo è difficile. Di solito cosa faccio? Rimbalzo e faccio il pugno. Ma ho una forza ferma e quindi quello che ottengo è solo la solidità. Se invece io mando il rimbalzo lì, allora ho efficienza. Quindi se dovete sentire un fondo corsa, che vi dà una reazione. Questa reazione deve uscire. Non devo muoverla, deve uscire. Ti toco. Dai.